Un mese all'asciutto per il Catania di Pino Rigoli. Sei partite, zero vittorie portate a casa e cinque punti messi in cassaforte. No, decisamente così non può andare. L'Atita la media punti a 1,14. A partita vedo un bilancio che si fa precario per i risultati, dentro e fuori dalle mura amiche. L'esordio contro la Juve Stabia forse aveva fatto presa a giro un piatto più dolce nel menu della Lega Pro per i tifosi del Catania. Invece, già dai primi di settembre sono cominciate le difficoltà. Copiose in zone nevralgiche come centrocampo e attacco, meno in difesa, ma giornata per giornata dal Catania si attende una svolta che stenta ad arrivare. Andando su qualche numero sono due i gol fatti e tre subiti nelle ultime sei partite, nessuno dei quali messi a segno dalle punte. Sono venti i giocatori scesi in campo nell'ultimo mese di campionato che ha visto il Catania affrontare tre neopromosse senza portare a casa la vittoria. Cinque pareggi e una sconfitta, dunque è tra le strisce negative più lunghe dell'era moderna. L'anno scorso, da febbraio a marzo, furono sette le gare senza trovare i tre punti, con un trend che si interruppe proprio contro il Messina di Argurio allo Stadio Massimino, che ancora oggi si presenta come possibile svolta di un campionato. Dunque sarà davvero, come dice qualcuno, aria di ultima chiamata per Pino Rigoli? Presto per dirlo, ma di sicuro una svolta in termini di risultati dovrà arrivare. Messina un buon banco di prova, risorgere nel derby per riconquistare tutti. L'occasione di Rigoli è quella di zittire gli scettici, così come quella di chi è in campo e per dimostrare di essere all'altezza della maglia. E sulla ruota di Messina, dunque, dovranno uscire i numeri del Catania per cominciare a percorrere una strada finora in una salita più irta del previsto.